e l'Europa è sufficiente per la strada per l'Europa. Pensate che di quelle due tonnellate di cocaina che sono state trattate all'organizzazione solo 500 kg sono caduti in sequestro. L'altra tonnellata e mezzo è entrata nel mercato e quella è una parte minima rispetto alle quantità che l'Andrangheta tratta. Ogni anno, almeno fino all'anno scorso, solo nel porto di Gioia Tauro veniva sequestrato un quantitativo di... In Duitsland, ma anche in Nederland e in Belgiè sono Italiaanse restaurants, iassalons e hotels in handen di drangheta. De verdenking è che una mafia-organizzazione investece criminele geld e investece via queste horecagelegenheden. Deze criminele organisatie onderscheidt zich van altre criminele mafia-organizzaties per il molto forte indietro della famiglia-organizzazione. In Deutschland sind das insgesamt bisher 47 Beschuldigte, die in dem Duisburger Verfahren strafferfolgt werden. Im Rahmen der heutigen Aktion wurden in Deutschland mehr als 65 Durchsuchungsobjekte durchsucht, wobei ein Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen lag, aber auch andere Bundesländer betroffen sind.